buongiorno raga oggi giornata veramente fantastica siamo sempre a sasso vivo siamo sono da solo oggi perché gli altri mi hanno dato buca che sono andati a un raduno una scampagnata a mangiare pane e salsiccia noi invece siamo qui per recensire questo gioiellino il nuovo casco della leat il modello dbx 4.0 che dire allora io ce l'ho in testa da quando sono partito da casa proprio per diciamo testarne anche i pro e contro in fase di salita che bene o male la cosa che interessa anche maggiormente no perché molti di voi non acquistano caschi integrali proprio perché hanno poi lo sbattimento appunto di portarseli o dietro lo zaino oppure di tenerselo alzato in testa così perché appunto è faticoso portarlo in salita e invece devo dirvi che mi sta letteralmente sorprendendo perché è di una leggerezza allucinante dopo un po scordate veramente di portarlo in testa già posso dirvi che ha un'ottima visibilità la mentoniera nonostante come vedete è abbastanza importante non pregiudica troppo la vista in fase di discesa quindi abbiamo comunque sia un'ottima panoramica dell'ambiente ci spastiamo che sennò mi arrotano altra cosa molto positiva che secondo me veramente vale vale l'acquisto solo questa è l'udito non avete quell'idea di ovattato che non sentite un cazzo neanche se avete un rider dietro che vi sta punzando il culo ma veramente sentite ogni minimo rumore poi ci sono delle chicche innovative tipo loro richiamano turbine uno potrebbe pensare che servono per areare meglio il casco in realtà sono dei micro cuscinetti blu che hanno diciamo lo scopo di attutire assorbire ancora meglio gli urti quindi per una maggior sicurezza vi posso assicurare che si allaccia e si slaccia con una mano a questo sgancio rapido che è veramente una figata ragazzi non scordiamoci in questo casco ha passato tutti i test e quindi è un prodotto certificato e di conseguenza è sicuro altra chicca è che al momento dell'acquisto oltre alla classica sacca porta casco e va bene viene fornito di due coppie di guanciale le guanciale per chi non lo sapesse sono queste qui ok e questo ragazzi vi dà la possibilità di adattare il casco ancora meglio alla vostra testa quindi di fare una regolazione di fino se vogliamo ok io per esempio porto sono a cavallo come taglia tra messi una m ho preso una m in questo momento in testa porto una m ma le guanciale che montava erano da 35 quindi erano troppo piccole il casco mi ballava troppo ho montato le altre guanciale che erano in dotazione da 45 adesso il casco non si muove quindi direi che sono delle piccole accortezze che rendono questo casco veramente un prodotto di fascia elevata a un prezzo molto molto accessibile è disponibile ovviamente molte colorazioni adesso per questione di gusto personale e poi perché si sposa bene la mia bici ho optato per questa colorazione qui ora arriviamo in cima e poi lo proviamo in discesa no 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 Alla prossima allora primissime impressioni anche in discesa confermo il discorso dell'ottima visibilità ragazzi praticamente non si vede neanche la mentoniera quando scendete sono passati con le moto qui hanno spudellato ogni cosa e dicevano non si vede la mentoniera quando scendete il che per quanto mi riguarda è un pregio enorme è leggerissimo la sensazione uditiva veramente ragazzi è il top tutto ok dicevo si sente qualsiasi rumore quindi non avete quella sensazione di essere isolati che è fastidiosissima nulla leggerissimo vi scordate mente di portarli in testa il che è ottimo perché anche nei cambi magari direzione eccetera non avere qualcosa che ci sfinancia è fondamentale secondo me quindi che dire per adesso voto 10 più proprio ragazzi 10 più veramente ragazzi oggi per terra terreno sarebbe anche l'ideale se non fossero passati con queste cazzo di moto a spudellare tutto ma grip c'è nella parte un pochino dove è più fogliosa terra ovviamente la dici tende un po' a partire basta stare ben bilanciati sopra e si tiene insomma bella raga bella raga un cazzo abbiamo anche bucato e mi sa che oggi ce ne torniamo a casa allora raga tralasciando questo piccolo inconveniente che ci obbliga a rientrare in larghissimo anticipo posso solo dirvi che questo prodotto ovvero il casco della leat dbx 4.0 passa a pieni voti il nostro test quindi tutti i pollicioni all'insù neanche un contro quindi se avete necessità oppure volete togliervi semplicemente lo sfizio di farvi un nuovo casco questo è più che consigliato quindi vi aspettiamo da chianti bike abbiamo un vastissimo assortimento tutti i colori e tutte le misure mi si prospetta una lunghissima camminata fino alla valle fu lignate raga quindi buona domenica ci vediamo al prossimo video blog ciao a tutti bella